salve queste sono delle scarpe che ho comprato la lidl al prezzo di 14 99 beh io l'ho calzata numero 43 non saranno ovviamente di qualità però rispetto a quelle che si trovano a questo prezzo le reputo passabili al momento sembrano convortevoli sono anche abbastanza alte ovviamente la qualità è quella che sono abbastanza leggere però per 14 99 secondo me ne vale la pena il problema è portare la pubblicità della lidl però alla fine fai niente anche i talloni sembrano abbastanza riparati abbastanza distaccati anche per le talloni tele reputo passabile addirittura a volte anche facendo delle scelte normale poi trovare una scarta che possa anche funzionare questo non vuol dire che durerà molto è di pelle non è nulla di tutto ciò per anche quelle che sono costose oggi non sono le stesse scarpe che si facevano 30 anni fa che duravano veramente tre anni almeno adesso massimo un anno e si devono buttare tanto vale comprare queste cose sono abbastanza comodo